bene buongiorno e benvenuti anche da parte mia agli azure day di roma 2024 io sono cristian civera faccio parte della community di spitalia.com che si occupa appunto di azure e di tutte le tematiche relative a dotnet e quello del mondo che si gira attorno oggi sono qua a parlarvi di azure front door che sostanzialmente potremmo dire che sia un gateway ma in realtà fa anche molto di più e cercheremo di capire quindi a cosa perché ci può servire come potremmo inserirlo all'interno di tutto l'ecosistema di azure che noi stiamo già utilizzando prima di tutto ringraziamo di sponsor che permettono la realizzazione di questo evento e vediamo un po di capire che cosa si compone azure front door come dicevo è un gateway quindi per chi non lo sapesse sostanzialmente si pone davanti l'obiettivo è di porlo davanti a una serie di servizi e qua parliamo di servizi basati su http https ok quindi non non è fatto per altre tipologie di servizi tcp è fatto per il mondo web e l'idea è di avere un intermediario che ci permette di aggregare servizi sottostanti diversi quindi pensiamo alla situazione classica dove magari abbiamo una azure function che spune alcune api abbiamo una app service abbiamo un container apps quindi abbiamo abbiamo un cluster kubernetes quindi abbiamo tante tipologie di servizi sottostanti è normale oggi giorno avere sempre soprattutto in ottica di micro servizi avere end point diversi lo si vuole riunire in un unico endpoint e quindi il gateway fa questo lavoro io ho un unico dominio e in base al percorso che io sto utilizzando quindi slash api slash public slash admin e così via io vado a ristradare le richieste verso la reale risorsa quindi sostanzialmente azure front door lavora da una parte sulle layer set quindi a livello più alto fornendo una serie di servizi come appunto il routing per il gateway ma davanti a questo poi ci permette di usufruire anche di altre funzionalità ad esempio posso proteggere tramite https quindi non devo magari più andare a lavorare con certificati su tutti i servizi sottostanti ma un punto unico dove andare a lavorare sui certificati fa da caching quindi permette di non tutte le volte andare a chiamare servizi sottostanti ma di avere un sistema davanti a tutto questo fornisce anche funzionalità di firewall quindi è in grado di bloccare richieste previste che vengono identificate come malevole permette di inserire una serie di regole per alterare e interferire sulle richieste sulle risposte http ci permette di ovviamente di motorare tutto quello che viene sotto ma cosa molto più importante è che il front door lavora anche a un livello più basso a layer 3 e 4 quindi sostanzialmente ci dà la possibilità di avere una protezione di service che sono quegli attacchi che magari non ci pensiamo mai però se noi abbiamo dei servizi che poi magari vanno anche al consumo sono pensati per scalare se arriva qualcuno che cerca di intrasarci di richieste e magari non ce ne accorgeremo se non quando magari arriva alla fattura di fine mese invece così facendo abbiamo il servizio fornito da microsoft che va a monitorare le richieste possiamo andare a intercettare e mettere dei limiti anche sulle richieste e anche a livello di firewall si lavora anche questo livello la cosa infatti fondamentale di di azure front door e che differentemente da tutte le altre risorse di azure quando lo creiamo non è specifico di una di una regione ma in realtà è geodistribuito vediamo infatti di capire bene alcuni concetti che poi andremo a sviluppare nel resto della sessione allora innanzitutto quando noi creiamo una risorsa di tipo azure è quello che andiamo a fare è dare un nome generale a tutto il servizio che poi può lavorare a due livelli standard o premium e vedremo un po quello che ha a disposizione oppure no la prima cosa che dobbiamo andare a creare sono degli endpoint sono dei nomi logici che poi dopo assegnano automaticamente anche un dominio già disponibile e raggiungibile su internet sul quale poi andremo a mettere eventuali domini personalizzati e così via fatto l'endpoint a questo punto abbiamo sostanzialmente e un elemento fondamentale da andare a definire che sono gli origin cioè le risorse sottostanti al quale andare a fare a capo ok quindi ho una una function voglio poter andare a chiamare un ipi a questo punto devo definire che ho a disposizione questa function poi abbiamo a questo punto le regole di root cioè decido che quando io arrivo a un certo dominio e uso un certo percorso devo andare a chiamare questa risolta sottostante e poi infine abbiamo le rule opzionali cioè permettono che permettono appunto di andare a alterare e personalizzare le richieste e risposte ora giusto per farvi vedere di cosa stiamo parlando io vado in Azure e quando vado a fare create come vi dicevo ora oltre a dovere magari a usare un servizio più veloce oppure no adesso andiamo magari a quello più personalizzato quando vado a creare il nome come vedete non vado a mettere la posizione grafica proprio perché non è possibile il sistema è automaticamente distribuito in tutto il mondo e a parte quindi scegliere il suo group di fatto vado a scegliere il livello e poi il resto delle cose da fare sono la definizione degli endpoint come vi dicevo è semplicemente un nome logico fatto il nome logico quindi io ci metto un nome logico giusto per provare quello che devo andare a creare sono le route ora io ho già creato tutto questo per farvi come esempio possiamo andare a vedere velocemente che io ho a disposizione appunto sezione front door manager una serie di endpoints io qua ne ho creato uno solo che mappa su un dominio mio personalizzato e vediamo senso su carica oltre agli endpoint poi eccoli qua vado a definire una serie di route e quali ce li troviamo andremo a vedere meglio che cosa andiamo a che cosa andiamo a sviluppare e poi abbiamo ad esempio gli origini qui sono tutti i risorsi sottostanti ad andare a chiamare andiamo un attimo avanti sulle slide ora come vi dicevo il vantaggio principale dal front door è che si mette davanti a tutto quindi uno e quindi oltre alle funzionalità di routing che sono comode comunque per essere ordinati diciamo così nelle nostre risorse la cosa più importante è che i nostri origin che noi abbiamo messo dietro possono essere anche più di uno immaginiamo la situazione dove ho messo la stessa istanza in Europa una in West una in North un'altra in Stati Uniti e così via facendo così il sistema di front door che è distribuito globalmente si basa sulla provenienza dall'utenza e qua possiamo vedere che se io dovesse venire da Los Angeles vado nel punto più vicino del front door quindi vado sulla far più vicina e questo permette di avere una connessione di CV corta questo significa tempi più corti nell'andare a fare le chiamate rispetto al front door ok quindi risposta più immediate e così via e a questo punto quando vado a chiamare l'origine sottostante è vero che ho una connessione più lunga che potrebbe essere anche dall'altra parte del mondo in realtà questa connessione TCP è già stata prestabilita e viene sfruttata più volte in continuazione quindi se gli utenti quando arrivano siccome sono tanti creano tutti una connessione TCP specifica e questa la facciamo corta per quanto riguarda invece il back end quindi il lavoro tra Azure front door e il nostro server questo lavoro invece sarà una connessione TCP unica sfruttata più volte quindi da una parte l'origine può essere uno solo in questo caso quindi sfruttiamo questa caratteristica oppure possono essere più di uno a seconda della location in modo da anche bilanciare i carichi e avere più anche resilienza in caso di problemi gli origini tra l'altro possono anche essere risorse non Azure ok possono essere su altri cloud pubblici o privati quindi tutto questo mi dà la possibilità di avere una latenza più breve più bassa e in più anche una possibilità di cache perché ogni location qui di front door sostanzialmente è un motore che mi evita di andare tutte le volte qualora ci siano le condizioni ad andare a chiamare la risorsa originaria quindi è più scarica anche la risorsa originaria proseguendo quindi sulla questione degli origini quello che può essere sottostante può essere non solo degli applicativi quindi qualcosa di dinamico ma possono essere anche degli stories qualcosa di statico HTML e così via possono essere risorse come vi dicevo esterno o meno posso lavorare con i private link quindi andare di VPN per poter andare a leggere le risorse che magari stanno su un private cloud posso avere dei gruppi di origine quindi avere più di uno come vi dicevo questo poi mi dà la possibilità di fare in base all'algoritmo che scelgo ora o Robin quindi di andare una volta per uno oppure di andare da quello che ha una latenza più corta oppure di andare da quello che invece funziona e quello che invece non funziona non vado a rivolgermi e poi ci sono una serie di caratteristiche di monitoraggio quindi il sistema va a monitorare se quella risorsa è valida oppure no se non è in salute diciamo così non la va a chiamare altrimenti la andrà a chiamare e poi possiamo lavorare a livello di header in modo da sovrascrivere alcune caratteristiche andiamo a vedere un esempio pratico ad esempio se io vado a vedere le mie risorse di Azure io ho creato uno storage account sapete o comunque ve lo dico io che è possibile andare a creare un blob un container lo possiamo anche fare magari statico il fatto cioè avere un container particolare dove è normalmente raggiungibile con questo indirizzo dove posso andare a mettere dentro tutte le risorse statiche quindi pensate alla classica applicazione Angular o React dove io ho il mio JavaScript il mio HTML e così via e l'ho messo dentro all'interno di uno storage chiaramente io non posso esporre direttamente questo nome perché è un nome diciamo un po' particolare e non mi dà la possibilità di gestire i certificati o di avere domini personalizzati quindi cosa posso fare posso usare front door per mettere davanti tutto questo quindi io vado qui e faccio add a questo punto l'ho già fatto quindi vado a vedere questo origin che cosa posso fare allora come vedete io qua posso andare a dargli un nome in questo caso l'ho chiamato HTML e posso andare a definire uno o più origini se lo premo sostanzialmente ora oltre a dare un nome per identificarlo scelgo il tipo di origine questo permette a front door di conoscere come lavorare con le risorse specifiche di Azure in questo caso vado per esempio a scegliere lo storage static website e poi vado a scegliere la risorsa in questo caso appunto Azure Day qui ci sono una serie di caratteristiche perché io cosa devo fare ho bisogno di andare a quali sono le porte sul quale lavorare oppure se ne ho messo più di uno che peso do a tutto questo quindi prima vado su un origine 1 poi sull'origine 2 adesso nel mio caso ne ho una sola quindi se vado a vedere io ho definito esattamente la stessa cosa di prima cioè il fatto che deve espormi lo storage di Azure poi ci sono alcune come le caratteristiche che vi dicevo prima cioè la possibilità di identificare il probe cioè il servizio deve andare a monitorare se questa risorsa è valida se per caso è dichiarata morta allora passerà a un secondo origine oppure esattiverà un 502 a che mi sta chiamando cosa che si spera di non avere mai ma potrebbe succedere qui stiamo dicendo di fare un ping in HTTP sulla risorsa base se ti risponde con una head se ti risponde in modo positivo quindi deve essere un docente o qualcosa di valido a questo punto la risorsa è attiva ok e ci sono poi alcune valutazioni per quanto riguarda l'over balancing anche qua sempre per il fatto che se io ho deciso di avere più origine e voglio bilanciarle in base a quale criteri fa da uno e poi all'altro e qua vado a specificarli quindi ho definito la mia origine a questo punto a me mi serve passare alla root andiamo a dare un'occhiata al routing allora il routing funziona in questo modo io devo definire il match cioè in che modo io voglio identificare la richiesta che sta arrivando in base a un specifico dominio a un specifico path o a un specifico protocollo e poi gli dico qual è l'origine di andare ad utilizzare ed eventualmente posso andare a fare l'override del path e adesso vediamo cosa significa allora torniamo quindi sulla definizione del nostro endpoint qui come vi dicevo andiamo a definire la root adesso entriamo nella root che ho già definito allo scopo le operazioni che si fanno sul front door non sono velocissime quando si fanno in update perché comunque è geodistribuito quindi vi faccio vedere quello che è già attivo quindi se io vado in edit di questa root noteremo che innanzitutto devo dire su quali domini lavora il concetto che poi adesso andremo a lavorare questo è il dominio principale che tu hai quando tu crei un endpoint e poi gli vai a dire qual è il percorso sul quale lavorare in questo caso stiamo dicendo che deve prendere tutto quello che è slash asterisco cioè a me interessa che tutto ciò che io chiamo sotto il dominio principale vada a lavorare su questi protocolli mi va bene sia HTTP e HTTPS ad ogni modo questo è cosa ormai prassi fare redirigo il traffico da HTTP e HTTPS e gli dico di utilizzare vedete che mi mostra gli origin group disponibili io voglio andare a utilizzare l'origine HTML che avevamo fatto prima e cioè che punta all'istorage ora eventualmente gli dico supporta, utilizzi lo stesso protocollo cioè se io arrivo, se l'utente arriva ad HTTPS chiamami in HTTPS anche lo storage e questo ci sta perché comunque anche nel mezzo è meglio essere sicuri e poi vedremo gli altri aspetti e lo vedremo poi dopo ecco una cosa importante è l'origin path che io qua non ho specificato pensate a una situazione dove è vero che io sto chiamando sito internet slash qualcosa e poi lo ridirigo verso un'altra risorsa sottostante ora la chiamata alla risorsa sottostante manterrà lo stesso path se questa cosa non mi va bene io posso sovrascriverla ad esempio io potrebbe fatto una cartella in quel container e voglio che lui vada a mettere tutto con slash public qualcosa ok? quindi tradurrà il fatto che io ho messo dominio.com slash index.html in realtà lui lo tradurrà in slash public slash index.html quando fa la chiamata all'origin sottostante nel mio caso questo problema non c'è e quindi lo tengo così com'è ora se io adesso vado a vedere il mio storage chiaramente questo se lo chiamo diretto mi restituisce la pagina html hello world ok? ma se vado sul mio end point che è raggiungibile a questo indirizzo e faccio la stessa cosa vedete che scusatemi non me l'ha copiato non me lo vuole copiare vabbè ce la facciamo lo stesso lo andiamo a leggere da qua eccolo qua ok? ci metto htps davanti e come vedete il risultato è il medesimo solo che adesso sto passando dal front door il risultato è sempre questo perfetto ora chiaramente uno potrà dire ma io posso usare un dominio personalizzato assolutamente sì è possibile metterne più di uno si può far sì che alcuni root vandano su alcuni root su alcuni domini e altri no è tutto automaticamente gestito come per altri servizi quindi è sufficiente mettere un record dns txt per la validazione a questo punto noi abbiamo il dominio che si rinnova ogni tre mesi automaticamente è generato fatto da Microsoft gratuito quindi è comodissimo questa cosa vale solo però per domini normali nel senso che non devono essere quelli di tipo wildcard a meno che se invece vogliamo andare su quelli Apex o quelli wildcard in quel caso allora bisogna lavorare con un repo esterno quindi tendenzialmente con Key Vault e siamo noi a dover rinnovare il certificato io nella mezza parte dei casi uso quello gestito che è comodissimo se torniamo quindi adesso sul nostro front door vedremo che c'è una sezione dedicata ai domini è molto semplice io vado qua faccio add gli dico appunto se lo voglio gestito oppure no se vado su un scusatemi se vado qua con la versione non voglio usare quelli di Azure ma voglio usare il mio dns custom metto il mio dominio ok pincopallino.com e a questo punto devo fare la head e devo procedere con la validazione scelgo eventualmente appunto se deve essere gestito o se porto un mio certificato supportate il tls 1.2 che è quello che si consiglia di fare almeno per maggiore sicurezza come vedete io in realtà ho già fatto questo lavoro per un dominio che si chiama appunto azureday rom cristiansivera.com ora l'ho validato quindi si vede che qua è acceso tutto acceso quindi vuol dire che ho messo i certificati dns come loro prevedono e possiamo andare a vedere che questo dominio è associato a questo endpoint quindi quello di prima li ho associato allo stesso dominio giusto per farvi vedere sono andato qua e l'ho associato questo significa che se adesso riprendiamo la stessa risorsa di prima e facciamo azureday rom punto cristiansivera.com vedete che ottengo lo stesso risultato ok certificato valido e gestito da parte da djvdrust fatto da microsoft perfetto ottimo in realtà io in realtà ho fatto anche un altro provider ad esempio io ho una function che mi risponde a un api questa cosa l'ho potuta mappare tranquillamente quindi ho la mia bella function che è questa qua e che posso andare a indivocare quindi adesso mi copio è una funzione pubblica di test non è niente di complicato come vedete se chiamo la function mi restituisce l'ora corrente se io voglio poter esporre queste API come faccio? prima cosa vado a fare un origin group ho fatto un origin che punta a una function a un app service quindi a una function sapete che sono la stessa cosa stesse regole di prima di conseguenza vado sull'endpoint creo una rule non appena si carica qui non ho potuto la function risponde sotto API io ho voluto fare che anche la root sia sotto API quindi se vado a fare la edit di questa root nulla di diverso da prima ometto che deve rispondere in questo caso sotto slash API qua la regola il pattern match a quello più vicino quindi non va in conflitto con quello generico slash asterisco quindi prende quello che è il match che diventa più vicino rispetto al path che io sto andando a chiamare l'origin group è quello dell'API il resto è rimasto invariato non devo fare nulla di che e ho associato quali sono i domini sui quali deve andare a lavorare ok quindi tutte le root qua le possiamo fare per il modo da puntare a tutte le nostre risorse perfetto fatto questo passiamo alle rule ora cosa servono le rule io così come sono come sto lavorando sostanzialmente mi fido di quello che arriva dalle risorse sottostanti la richiesta arriva e la risposta viene adesivata così com'è invece le rule mi danno la possibilità di intervenire come dicendogli lavora sulla richiesta o lavora sulla risposta e applicando delle condizioni quindi solo se la richiesta è per un certo path per un certo host se ha qualcosa in questo body e così via posso applicare degli operatori quindi solo se ha un uguale maggiore così via oppure se c'è una certa regex e poi una serie di valori da andare a controllare se la condizione passa a questo punto ci sono delle azioni cosa posso fare posso magari modificare gli header utile ai fini di sicurezza posso cambiare lo status quo quindi se mi chiamo in un certo percorso che non è più valido ti faccio un'area verso un'altra cosa posso fare il rewrite del path in questo modo internamente io penso che sto chiamando un'altra cosa quindi i servizi sottostanti gli origini sottostanti hanno un path diverso oppure posso forzare di fare un certo protocollo di usare una certa regola di cache e così via diamogli un'occhiata torniamo sempre sul front door c'è una sezione dedicata alle rule le rule prima si definiscono e poi si applicano ora io ne ho già creata una come funziona gli dai un nome poi hai un insieme di regole quando vai a creare la regola gli devi dare la condizione da andare a identificare e come vedete c'è tantissimo posso vedere il nome del file il metodo il percorso l'IP il protocollo c'è davvero tantissima cosa e tra l'altro all'interno della condizione quindi se dovessi fare che ne so uno specifico header io posso guardare quale header applicare l'operatore che mi interessa il valore potrebbe essere anche un'espressione c'è un piccolo linguaggio di espressione sul quale andare a lavorare io una cosa tipicamente che faccio è quella di lavorare su degli header che sono fondamentali dal punto di vista della sicurezza perché una volta passata la condizione io posso fare le azioni ad esempio che azioni posso fare come vedete posso modificare la richiesta la risposta fare un redirect e così via io qui decido di cambiare l'header di risposta voglio togliere tutti quegli header specifici che dicono ad esempio fatto da con SAP non voglio dare elementi di quale tecnologia sto usando sottostante e in più metto alcuni header specifici di sicurezza ad esempio qua gli dico che posso caricare solo script prevenenti dal dominio stesso dalla pagina stessa oppure dico che non voglio applicare e supportare i frame questi header verranno applicati per qualsiasi richiesta che viene fatta all'interno del dominio e questo è comodissimo quindi non devo andare a intervenire sull'applicativo fatto in node in php java e così via lo metto qua e tutti se l'hanno a disposizione tant'è che una volta che ho definito la rule che cosa che faccio vado sempre sul front door e a livello di rule tra l'altro lo si vede anche di là comunque a livello di ogni rule appena carica questa pagina abbiamo capito che non è immediata vado qui e decido di applicare il mio rule set che tra l'altro possono essere anche più di uno quindi posso fare molto specifici e poi li vado ad usare tutti insieme perfetto qua ho deciso di applicare la regola dovremmo infatti vedere che se io adesso vado a chiamare il mio Azure Day che abbiamo visto prima questo qua e faccio un F5 qua negli headers che adesso zoom un po' per farvi vedere se andiamo sulle risposte vedete che alzo un pochettino così vi permetto di farvi vedere vedete che per esempio c'è questo content security policy viene dalla regola il powerhead non c'è poi avevamo messo un'altra regola che era dedicata all'xframe dovrebbe essere qua eccolo qua xframe option deny perfetto quindi vuol dire che la regola viene applicata e sta applicando il tutto ottimo rule caching ok un'altra cosa comodissima soprattutto quando abbiamo risorse statiche è il fatto che davanti tutto questo front door offre una cdn quindi io accedo a una pagina html sotto a uno storage non pago tutte le volte la lettura dello storage che tra l'altro sta solo magari in Europa ma ho geodistribuito in tutto il mondo una versione di quella pagina html come funziona innanzitutto viene applicata una compressione automatica in base al fatto che il browser sapete che c'è un header che dice io supporto il brodli gzip o meno gli dico quale supportare e lui si adatta automaticamente crea versioni differenti a seconda del behavior che noi vediamo per la quale string quindi se metto un parametro deve fare una nuova versione oppure no posso eventualmente pulire questa cache e la cosa interessante è che comunque lui osserva e obbedisce a quello che noi diamo come headers dal origin quindi se ho fatto un API che mi dà in risposta a un file il quale dice puoi tenerlo in cache per 60 minuti allora lui terrà in cache quella risorsa per 60 minuti quindi sapete che è possibile mettere se tenerlo in cache quindi se ti metti dall'altra parte e dici non tenerlo mai in cache perché magari è una chiamata JSON che deve essere sempre fresca a questo punto lui non la metterà in cache quindi supporta esattamente come giusto che sia il fatto che non deve le indicazioni provenienti dall'origine anche qua come si usa la cache è molto semplice perché quando andiamo sulle risorse abbiamo la possibilità sulle root per ogni root abbiamo la possibilità di spuntare di supportare il caching vedete che io non l'ho messo sull'API perché non ha senso voglio sempre che sia fresca ma se vado invece sull'HTML vedremo che ho potuto mettere il caching fatto questo devo dirgli anche se mi interessa fare qualcosa di variante al query string quindi se metto dei parametri o meno se deve fare una nuova versione di cache e cosa è fondamentale se supportare la compressione perché non è detto che io voglio fare caching con compressione quindi siccome la risorsa originale magari non è compressa la tiriamo giù e poi Azure Front Door automaticamente se la comprime e la tiene in memoria io qua l'ho tenuta se torniamo sempre sulla pagina originale vedremo infatti una cosa fondamentale ci sono degli header in più forniti dal motore di Azure Front Door questo xcache TCP hint sta a indicare proprio che questa pagina non è stata presa dallo storage ma è presa dalla cache ok ora se io dovessi probabilmente qua anche se io faccio più chiamate vedrò sempre TCP hint se magari aspetto un giorno oppure faccio una prune esplicita dovrei vedere che invece è andata a prenderla quindi come faccio a fare una prune cosa fondamentale quando magari si fa un deploy è possibile tramite magari script dire guarda pulisci tutta la cache perché ho bisogno che tu in maniera forzata vai a prendere tutto qua nella purge io posso andare a dire che per questo end point per questi domini butta via tutto oppure magari solo un path specifico anche questo è molto comodo quindi facendo la purge ottengo di fatto adesso questa operazione non è che sia immediata ottengo una pulizia e quindi se adesso dovessi fare una nuova richiesta quello che dovrei ottenere è che magari il TCP non diventa più hit ma dovrebbe cambiare indicarti che è stato preso è stato preso una nuova versione dall'origine in ogni modo è tutto automaticamente gestito e non è che dobbiamo fare molto da questo punto di vista quindi vi assicuro questo è fondamentale se volete scalare questo regala tantissimo anche perché front door vi fa pagare con un costo fisso se scegli di usare il premium ma poi in base a quante richieste e quanto traffico fai quindi è nel loro interesse andare il più veloce possibile e questo è proprio lo strumento ideale per scalare tantissimo soprattutto sulle risorse statiche ora c'è un ultimo aspetto sulla sicurezza che è fondamentale è un capitolo solo questo lo vediamo a sommi capi però sostanzialmente come vi dicevo lui ha la possibilità di avere una protezione di DOS considerate che ci sono 192 edge in tutto il mondo quindi quando parliamo di cache e supporto di DOS eccetera vuol dire che lui in base agli IP riesce a supportare a 192 server o meglio server FAD che vi vanno a supportare da questo punto di vista e davanti a questo è possibile andarci ad agganciare il web application firewall che è uno strumento non solo di front door è possibile usarlo anche con application gateway ma che davanti a questo fornisce anche un firewall applicativo cioè che va ad indagare su quello che passa nel mezzo cosa significa che se io adesso vado qua sempre sul mio front door e vado nella security policy io posso andare ad agganciare il web application firewall cosa significa che abbiamo già incluso il fatto che lui possa o blocchiare o andare solo in analisi ora in questo momento è solo in detection cioè lui logga solo se c'è qualche anomalia questo è fondamentale soprattutto all'inizio perché il firewall applicativo è molto alto come standard a volte vi blocca anche le richieste che per voi sono diciamo così corrette e non vogliamo andarle a bloccare quindi il mio suggerimento in genere all'inizio è lavorare in detection mode vedere i log se c'è qualcosa che è stato rilevato come anomalo e poi intervenire quindi o correggo il mio codice oppure intervengo sulle rule del quale adesso andiamo a parlare infatti noi sostanzialmente una volta che abbiamo agganciato il front door il WAF quello che noi abbiamo è la possibilità di decidere se guardare anche il body o meno della richiesta questo è importante perché potrebbe insomma anche da lì arrivano le minacce che cosa deve rispondere in caso ci siano problemi quindi da un 403 se viene identificato una minaccia da questo punto di vista e siccome io sto usando la versione premium ho a disposizione una serie di managed rule cosa sono? delle regole basate su degli standard non Microsoft sono fatti proprio da un terza parte esiste un consorzio che gestisce che definisce un po' queste regole e Microsoft le prepara le definisce le mette qua e noi le possiamo andare a sfruttare ok? ci sono regole dedicate in generale a SQL injection e così via qua io le posso vedere e altre dedicate al bot cioè è in grado di identificare che c'è un bot che sta facendo passare le richieste fa delle richieste specifiche tipiche di attacco e così via lui ha tutte queste regole quindi sul circolo ad esempio SQL troveremo le regole troveremo che cosa dovrebbe fare lui dovrebbe in teoria bloccare un attacco di tipo il SQL injection ok? ma se per caso questa regola viene violata e in realtà è benigna nel senso che noi sappiamo che sottostante non è un attacco perché noi non usiamo questo genere di strumenti non usiamo SQL addirittura quindi questo genere di attacco è un falso allarme io potrei decidere o di semplicemente marcarlo come anomalo oppure di andare a disattivare questa regola quindi si parte da un set di regole fatte da Microsoft eccole qua e poi si vanno magari a spegnere se servono fatto questo il motore lavora e va a applicare su tutte le richieste c'è un'ultima cosa che possiamo fare ed è quella delle custom rule cosa significa che io posso andare a dire guarda dandogli un nome qualora ad esempio arriva la richiesta da un certo IP e l'IP è questo qua io voglio che tu mi blocchi il traffico questo lo fa a livello più basso a livello dei 3 e 4 ok oppure voglio fare un redirect quindi anche qua ci sono tantissime possibilità posso andare a lavorare sulla posizione geografica ricordiamoci qua lavoriamo da un punto di vista 3 e 4 quindi non posso andare a vedere nel dettaglio troppe condizioni però diciamo che se appunto posso andare a vedere la richiesta l'URI come è fatto e così via e posso intraprendere un'operazione quindi qua proprio lavoriamo da un punto di vista della sicurezza si mettono delle regole che possono essere utili io ne ho fatta una che questa è molto comoda ed è quella dedicata ai rate limiting cioè io potrei dire che per qualsiasi condizione in realtà questa è una condizione che prezza qualsiasi roba perché io sto guardando qualsiasi host voglio andare a bloccare il traffico ma lo faccio con un rate limiter cioè nell'intervallo di un minuto non puoi fare più di 100 richieste se quell'IP soddisfa va oltre questo limite di fatto io vado a dare un blocco ok e questo va a unirsi ad un attacco di tipo di dos cioè vado ulteriormente a limitare quante volte uno può andare a fare le richieste questo è sicuramente comodo ad esempio quando sottostante abbiamo delle API che va bene tutto però se mi chiami troppe volte io ti blocco ti do un 429 ed è una cosa che è giusto anche fare altrimenti posso anche decidere solo di loggare per avere poi degli alert e delle anomalie da questo degli allarmi da questo punto di vista ok ho cercato di andare veloce visto che comunque siamo adesso ci sarà una pausa quindi non volevo rubarvi troppo tempo vi ho dato un'infarinatura su quello che è possibile fare è veramente un strumento molto comodo ha due livelli di prezzi che sono abbordabili in entrambi i casi nel caso del premium vi dà la possibilità di usare il WAF con le protezioni le regole gestite vi chiedo gentilmente di votare la mia sessione se vi è piaciuta se è stato interessante per voi mi trovate eventualmente su Twitter per farmi delle domande o per seguirmi che io pubblico regolarmente sul sito di Espitalia i contenuti riguardo Azure vi ringrazio e vi lascio al proseguo delle altre sessioni grazie a tutti